Però la linea va dentro perchè l'ho trovato la mia zona, eh La linea, eh, la propria linea quella su, eh Eh Grazie al cazzo Quanto cazzo va il dratti? Ma non va avanti Quattro tempi, due cinquanta quattro tempi, eh Cazzo, due cinquanta quattro tempi? Due cinquanta quattro tempi Guarda che infettuccio, tu fa paura come vanno Guarda, là c'è il cavo invece Non l'ho detto Perché c'è uno che va sempre davvero il cavo Quattro cinquanta quattro tempi Vedi che vanno tutti su, te lo detto Perrettino un po' Scalzi E' fatta il pesco E' a siete Ogni due Non fa sempre certo E' borsa, hai vinto il mondiale l'anno scorso Eheheh Ci sarà un mattino Ci sarà un mattino Guarda, guarda Ehi Andreee! Ehi Andreee! E' fatto mio è già Re... Aola Vai! Porca Noia! Ma che cazzo di traverso sei fatto Ale? Sempre lui Io però mi sono girato tutto il cellulare dritto, penso, spero. Esalta, è tutto quello che è con te. Minchia. Poi ti portano anche a sbagliare, ti faccio anche sbagliare, è quello il bastard. No, non ti portano. Quello lì è un ufficiale. Ma è quello con la sciarco? No, no, quello lì col K. Che casco? Ok, guarda lì. No, no, no. Sì, adesso, adesso... Guarda, 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 guarda! Quello è un ufficiale, molto ufficiale quello lì. Si, ma voglio... K, Ale con K. Eccolo! Guarda, a me va bene, è già andarselo... Guarda quanto vale tu, guarda quanto vale tu. Mann! Futtana come va! Buon saluto, Ale! Ciao! Guarda Luschi, guarda... Guarda Gaglia si faccia svegliare che altro! Eh, vado fino alle 4! Non ha il fisico! No, il 155 guardiamoci di tutti! Io voglio vedere qualcuno che fondi! No, mamma mia! Ok, quindi domani io dovrei andare come loro, in teoria qualsiasi 25. Un po' meno perché non è preparata così, però comunque dovrei andare come loro nella conca. Roba che nella conca arrivo e fai... E se fermo io non so loro come cazzo fanno andare avanti.